Sono stati presentati dal presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, alcuni passaggi importanti del lavoro svolto dalla nuova giunta regionale. Risultati di un lavoro di squadra impegnata in maniera sinergica, come ha affermato lo stesso Chiuto, affiancato dalla vicepresidente Prince e dall'assessore Minasi. Durante la conferenza stampa, il governatore calabrese ha annunciato la riprogrammazione per le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Tra le novità, il finanziamento di 65 milioni di euro per la realizzazione della strada per il Santuario della Madonna della Montagna Polsi. Il presidente ha anche annunciato la disponibilità di un'altra quota per un tratto della strada statale 106 e il finanziamento dei collegamenti Campo Calabro-San Roberto e per la Reggio Calabria-Cardeto. A proposito di Gambari, Occhiuto ha parlato di un grande attrattore turistico, dove la regione può investire per integrare la seggiovia da trasformare in prospettiva in una cabinovia. Sui trasporti, l'annuncio dell'avvio di una interlocuzione con il management di ITA, perché riveda la decisione di sospendere il collegamento con Milano da Reggio Calabria a partire dal 27 marzo. Per quanto riguarda la sanità, si interverrà sulla carenza di personale e sul superamento del deficit amministrativo dell'Aspergina nella gestione dei concorsi Collagenas. Inoltre, 86 milioni di euro trovati nei cassetti e mai utilizzati saranno spesi per attrezzature mediche, di cui molti centri sono carenti o totalmente sprovvisti. Infine, l'idea di dar vita ad un polo di pediatria regionale sulla base di un accordo da sottoscrivere con l'ospedale Bambino Gesù di Roma e lo sblocco dei finanziamenti per i poli dell'infanzia.